No, lei si ferma qua, mi aspetta, non combina guai ed è composta, eh? Ferma! L'aspetto qua, eh? Sì! Oddio, che grezza! Madonna, non volevo... Ma ci picchia, che caldo oggi, eh? Ci picchiolina! Però, si è caruccio, eh? L'Eminenza è carissima, che piacere, che onore, veramente! Le chiama e noi ci precipitiamo, eh? Veramente sono tre quarti d'ora che la spedono. Ha ragione, purtroppo ci sono state due manifestazioni e i taxi erano introvabili. Comunque, io le ho portato qua, tutti i nostri migliori tessuti per paramenti, come lei aveva chiesto. Sembri, lo sai che sembri, sembri? Uno dei quei principi, però no azzurri, eh? Quelli tutti colorati, una cosa di altri tempi, eh? Sì! Lei è una 54, mi pare, vero? Ho capito, non potete parlare. Però almeno una foto, una, ce la possiamo fare, eh? Che se la mando a lì, c'è... Che quella, guarda, la voglio far schiattà. Aspetta, eh? Bella così, bella. Ma rimanga così. Dai, fermo, ecco, così, perfetto. Molto bello questo di tessuto. Non ti muove, no? Aspetta che qua c'è il sole. Ecco, ecco qua. Poi chiaramente mi deve dire come vuole i bordini, eh? Ancora sono indeciso tra quelli in seta e quelli in rosecchini. Ci pensi con calma e poi ce lo fa sapere. L'importante è che cominci il lavoro subito, certo. I due del mese ho l'incontro con Patriaca Ottodosa a Sofia. Oh, guardi, a costo di lavorare fino all'alba, le daremo il lavoro in tempo. L'importante è se ricordi di dirmi dei bordini. Sì, grazie. Grazie per la fiducia. Grazie, grazie, grazie. No, sono venuta con gli occhi chiusi. La dobbiamo rifare, scusa un attimo. Aspetta. Scusi, ma cosa sta importuna alle persone che lavorano? Poi una guardia svizzera questa. Sto a fare selfie. La scusi tanto, la perdoni. Ma tanto non te lo risponde. Lei combina solo guai, eh? Senta, com'è andata? È andata benissimo. Il lavoro è preso. Gli è piaciuto il campionario, gli è piaciuto tutto. Adesso gli faremo un ferraiolo se secondo me può. Ma dove sta? Lei è in perico l'ambulante proprio, eh?